Onorevole Ferrari, cosa ha chiesto al Governo oggi nella interpellanza in Aula Montecitorio? L'interpellanza riguardava la realizzazione del tratto di bypass ferroviario della città di Trento che è un tratto del corridoio ferroviario ad alta capacità, ad alta velocità che va dai paesi scandinavi a Malta e che nella parte cittadina attraversa un'area inquinata da piombo tetraetile. La richiesta fatta al Governo è che accelerino i tempi per l'assegnazione di 2 milioni di euro che ho ottenuto sul bilancio scorso per destinarli a ulteriori indagini dell'inquinamento dell'area attraversata con urgenza preliminarmente alla realizzazione dell'opera per garantire la sicurezza dell'ambiente dei cittadini.